Vado? Ciao, sono Ciarrocchi Giorgia, numero 87, ho appena fatto il casting, diciamo che sono molto soddisfatta. La modella mi è piaciuta, sembra che è piaciuta anche ai giudici, loro sono molto tranquilli, diciamo che ti sanno mettere a tuo agio, quindi non bisogna avere paura quando si entra. Con la modella diciamo che il rapporto è una delle mie migliori amiche, quindi è stato molto facile relazionarmi con lei, conoscevo già anche i suoi capelli, quindi diciamo che sono stata un po' furbetta. Però lei è una che non si trucca e quindi non è stato facile trovare un trucco che riuscisse a soddisfare anche le sue esigenze, però tutto bene quel che finisce bene. Consiglio questa esperienza perché comunque è un bel bagaglio di emozioni, io ho imparato molto quindi insomma insegna tanto, la signora Longhi diciamo che ha una cultura generale che ciao, fermate, e quindi ne vale proprio la pena. Oddio, io non amo la crociera e quindi per me è stata dura stare una settimana qua, però il corzone vale veramente la pena.